E quindi è tutto un concatenarsi di cose meravigliose, ripeto, e siamo fortunati a poter vivere questa esperienza fantastica e so di essere, io come anche gli altri sette giovani che siamo saliti sul palco, insomma, dei privilegiati, abbiamo questa responsabilità così importante di rappresentare tutta la giovane musica italiana e io l'augurio che mi ero fatto prima di arrivare a Sarema era solo quello di esserne all'altezza. Il problema dello Star System è, oppure rimanere così? Star System è un altro disco che si chiama così, dei Tori. Siamo preparati. No, no, devo raccontare tutto lo Star System a Giampiero, appena lo sento domani mattina. Si può dire, Prod? Un'anticipazione, dai. Ma sì, dai, domani io scaramanticamente avevo tenuto da parte un vestito elegantissimo, oggi vado di rosso, poi chissà, si vede. Oggi poi era San Valentino, quindi era doveroso andare vestiti di rosso.